Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo chi ha partecipato alla qualifica del gioco del club della scommessa numero 8 e cosa hanno pronosticato. Vi ricordo che si partecipa gratuitamente e come ogni mercoledì si deve pronosticare con un commento una partita tra le campionate principali di Serie A, come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania e Italia Serie S e B, come da regolamento, con quota non inferiore a 1,45, che giocheranno questo fine settimana da venerdì 22 a lunedì 25 febbraio. Ma adesso andiamo a vedere che ha deciso di partecipare e cosa hanno pronosticato. Io intanto ho preparato l'elenco verificando le quote sul sito www.scommettendo.it. Il primo a partecipare è Luigi Cafagna che ha pronosticato Chievo Verona, Genoa, 1 gol a 1,46. Poi abbiamo Giuseppe Fascilla, Borussia Dortmund, Leverkusen, 1 a 1,85. Poi abbiamo Andrea Campese che ha pronosticato Milan-Empoli 1,5 a 1,55. Successivamente Giovanni Di Corato, Fiorentina-Inter, under 2,5 a 1,75. Poi abbiamo Cosimo Di Viccaro, Bologna-Juventus, under 2,5 a 1,85. Vincenzo Colucci, Frosinone-Roma, 2 a 1,48. Gianni Carbone, Sampdoria-Cagliari, 1 a 1,85. Cosimo Colucci, Siviglia-Barcellona, gol a 1,45. Carlo Rizzi, Verona-Selernitana, 1 a 1,90. Poi andiamo avanti. Giuseppe Di Benedetto, West Ham-Fulham, 1 a 1,80. Fabio Crudele, Levante-Real Madrid, 2 a 1,57. Cristian Fox, Monaco-Leon, 2 a 2,10. Poi John Junior, Alaves-Seltavigo, 1x over and mezzo a 1,76. Vito Antonio Rizzi, Parma-Napoli, 2 a 1,49. Ruggero Marzocca, Cittadella-Lecce, 1 a 2,24. John Pratz, Torino-Atalanta, gol a 1,72. Angelo Di Corato, Arsenal-Southampton, 1 a 1,46. Francesco Buono, Brescia-Crotone, 1 a 1,86. Ed infine Paolo Di Lillo, Perugia-Cosenza, 1x over and mezzo a 1,63. Le partite pronosticate in tutto sono 19 e nel caso in cui tutti questi pronostici risulteranno vincenti, il premio per tutti i partecipanti di questo gruppo sarà un tablet 4GB di RAM. In caso contrario il gioco continuerà solo per coloro che indovineranno la partita che hanno pronosticato, mentre chi non avrà indovinato il proprio pronostico sarà eliminato dal gioco e non parteciperà alla seconda fase di questo gioco del Club della Scommessa numero 8. Vi ricordo che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del Club della Scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!